È bella perché ho fatto tante nuove amicizie e perché facciamo tanti giochi belli, quindi sarà un'esperienza bella. Tutte le strutture sono selezionate dall'equipe di GiocaMondo valutando gli aspetti tecnici e logistici, come ad esempio hotel di categoria ad uso esclusivo per determinate fasce di età, prive di barriere architettoniche, dotati di impianti sportivi e sale interne attrezzate. All'interno di ogni struttura GiocaMondo a disposizione dei ragazzi è presente un servizio sanitario H24 con un dottore e un infermiere sempre presenti per tutta la durata del soggiorno. Grazie a tutti!